signore e signore benvenuti in questo nuovo video io sono ziro e oggi andremo a vedere insieme i giochi che usciranno nel prossimo mese nel mese di marzo che vi anticipo già sarà pieno di giochi ce ne sono più di 30 in uscita ma in confronto al mese che ci siamo appena lasciati alle spalle cioè febbraio diciamo che è carente di quei giochi che spiccano all'interno delle uscite mensili se a febbraio abbiamo avuto Dying Light 2, Horizon Forbidden West e Elden Ring ecco a marzo mancano quei giochi di punta e mi vorrebbe dire anche meno male visto che tutti i soldi se ne sono andati praticamente nel mese di febbraio questo mese però è pieno di piccole chicche secondo me ci sono alcuni giochi più piccoli che possono rivelarsi davvero delle grandi grandi sorprese ci sono anche dei tripla in uscita ma non mi rolungo oltre e partiamo dal primo marzo che già è pieno di uscite con ben sei giochi in uscita nello stesso giorno il primo marzo esce Far Changing Tides nuovo gioco sviluppato da Okomotive già autori del precedente Far Long Sile questo nuovo capitolo è una nuova avventura all'interno di un veicolo che ci porterà ad esplorare le profondità del mare il lancio è previsto su pc ps4 xbox one nintendo switch e su console di nuova generazione e sarà presente sin dal day one sul game pass di microsoft sempre 1 marzo esce alex 2 nuovo action rpg di piranha bytes seguito del precedente episodio uscito nel 2017 la nuova avventura fantascientifica prodotta da thq nordic sarà disponibile su pc ps4 xbox one e su console di nuova generazione sempre lo stesso giorno esce shadow warrior 3 sviluppato presso flying wild hog è prodotto da devolver digital il nuovo capitolo della storica saga di shadow warrior promette di offrire delle sequenze fps estremamente frenetiche dei combattimenti spettacolari e delle animazioni evolute il gioco uscirà esclusivamente su pc ancora l'uno marzo esce little orpheus platform adventure sviluppato da the chinese room è prodotto da sumo digital il titolo è già disponibile su apple arcade da giugno del 2022 e del primo marzo sarà disponibile su pc ps4 xbox one nintendo switch e sulle console di nuova generazione ancora l'uno marzo esce pathfinder wrath of righteous gioco di ruolo fantasy con visuale isometrica sviluppato da all cat games e pubblicato da coach media il titolo è già disponibile su pc dal 2 settembre mentre l'uno marzo uscirà su ps4 xbox one e retro compatibilità sulle console di nuova generazione ultimo gioco del primo marzo conan chop chop sviluppato dallo studio australiano mike by kingdom conan chop chop viene descritto come un hack and slash roguelite da 1 a 4 giocatori dallo stile grafico molto cartoon il gioco sarà disponibile solo su pc passiamo al 2 marzo dove esce 35 mm avventura post apocalittica sviluppata e prodotto da sergei noskov il gioco è già disponibile su steam dal 2016 ma il 2 marzo verrà rilasciato su playstation store in versione ps4 giocabile in retro compatibilità su ps5 passiamo al 3 marzo con babylon's fall nuovo gioco di square enix e platinum games il gioco farà vestire ai giocatori i panni di un gruppo di guerrieri conosciuti come le sentinelle in partenza per un'odissea ammirata al superamento della colossale tower of babylon l'action multiplayer online sarà disponibile su pc ps4 ps5 e supporterà il crossplay tra le diverse piattaforme il 4 marzo esce il gran turismo 7 nuovo capitolo del simulatore automobilistico targato polifoni digital con questo capitolo katsunori yamauchi vuole creare il simulatore di corse definitivo su playstation gt 7 può contare su decine di tracciati centinaia di vetture e la modalità carriera senza tralasciare il multiplayer online il gioco sarà disponibile come esclusiva su ps4 e ps5 il 4 marzo esce triangle strategy videogioco strategico per nintendo switch sviluppato in collaborazione con il team artonolic e supervisionato da tomoya sano produttore di bravery default e octopat traveler passiamo al 10 marzo dove c'è distant world 2 nuovo capitolo della serie gestionale e strategica tema sci-fi di slide line in sviluppo da più di 4 anni il titolo promette di evolvere la formula ludica e grafica del primo atto attraverso una serie di migliorie ed innovazioni che toccheranno ogni aspetto caratteristico dell'opera destinata ad approdare su pc questo marzo 2021 sempre il 10 marzo esce chochobo gp nuovo racing game per nintendo switch con protagonisti teneri chochobo e i personaggi di final fantasy sempre il 10 marzo assassin's creed valhalla l'alba del ragnarok nuova espansione del gdr open world di ubisoft descritta come l'espansione più ambiziosa nella storia della serie in questo dlc vedremo eivor affrontare il proprio destino nei panni di odino l'espansione sarà disponibile per pc ps4 xbox one google stadia amazon luna e console di nuova generazione 11 marzo esce wwe 2k 22 la nuova iterazione videoludica dedicata alla wwe dopo un anno di pausa la serie di virtual concept ritorna in azione con tutte le più famose superstar della wwe è un aggiornamento su tutti gli aspetti più importanti delle meccaniche di combattimento delle modalità di gioco e dei contenuti includendo tutti gli atleti di rose mcdown e rxt il gioco uscirà su ps4 ps5 xbox one e xbox serie x e serie s il 15 marzo esce gta 5 di nuovo con l'online per la terza generazione di console consecutiva upa il 16 marzo esce tunic avventura che riprende molto dalla saga di the legend of zelda esplorazione libera una suggestiva direzione artistica e un ottimo combat system sono i punti di forza di questo gioco nato dall'impegno di un unico autore andrew shaldice il gioco uscirà in esclusiva su pc e console xbox e sarà disponibile dal day one nell'abbonamento game pass passiamo al 17 marzo dove esce persona 4 arena ultimax atteso seguito di persona 4 arena questo nuovo picchiaduro presenta un roster più completo nuove modalità di gioco e un combat system più dinamico sarà disponibile su pc ps4 xbox switch e nelle console di nuova generazione sempre 17 marzo esce the settler ottavo capitolo del celebre franchise strategico di ubisoft il gioco si basa sull'economia sul trasporto e sulla guerra tutte caratteristiche base del genere rts il gioco sarà disponibile solo su pc sempre 17 marzo esce monster energy super cross the official video game 5 nuovo capitolo della serie di giochi di guida targata milestone il gioco sarà disponibile su pc ps4 xbox one e su console di nuova generazione il 18 marzo esce siberia the war before avventura grafica stampo narrativo che amplia la storia dell'iconica avventura ideata da benoît socal promette di estendere i confini della saga per abbracciare due epoche storiche ben precise proponendo così al pubblico un'esperienza narrativa che verterà attorno alle geste compiute dalle due protagoniste dana rose e kate walker il gioco che era stato annunciato per dicembre del 2021 e poi rimandato pochi giorni prima dell'uscita sarà disponibile per il momento solo su pc sempre 18 marzo esce stranger of paradise final fantasy origin souls like action in terza persona sviluppato da team ninja spin off della saga di final fantasy il gioco sembra presentare una notevole cornice artistica e un'interessante profondità del combat system sarà disponibile su pc ps4 xbox one e console di nuova generazione ecco i giochi in uscita il 18 marzo cioè siberia the war before e stranger of paradise sono quelli che finora fino appunto al 18 marzo mi interessano di più tra quelli nominati siberia come ho già detto nelle uscite di dicembre io sono un grande fan della saga e poi stranger of paradise sono un pochettino diciamo titubante non so se questo spin off di final fantasy possa piacermi o no è un souls like action vediamo fino all'ultimo sarà un po di rubante poi deciderò se prendere al day one o magari aspettare un po di tempo ma andiamo avanti coi giochi facciamo un balzo fino al 24 marzo dove esce relyer rpg a base mac strategico a turni su mappa composte da griglie piane il gioco sarà disponibile su pc ps4 e ps5 sempre il 24 marzo esce a memoir blue nuova avventura di anna burn interactive che pone al centro della scena il rapporto tra miriam una giovane atleta di successo e la madre con un comparto artistico suggestivo l'avventura porta i giocatori ad affrontare un viaggio tra le pieghe della memoria e dei sentimenti il gioco approderà su pc ps4 xbox one switch e su console di nuova generazione e sarà disponibile sin dal day one nell'abbonamento game pass anche questo gioco che promette bene a napurna come se come sapete è quasi una certezza in questi giochi in queste avventure grafiche quindi penso che lo giocheremo anche perché sarà disponibile nel game pass e quindi sicuramente li daremo un'occhiata insieme 25 marzo tini tina's wonderland spin off di borderlines con meccaniche rpg è interamente dedicato al folle personaggio di tini tina il gioco sarà disponibile su pc ps4 xbox one e console di nuova generazione sempre il 25 marzo esce rune factory 5 avventura ruolistica jrpg dove il protagonista dopo aver perso la memoria giunge in un villaggio circondato della natura lì entrerà a far parte di una squadra di ranger il cui compito è quello di mantenere la pace il gioco sarà un'esclusiva nintendo switch lo stesso giorno esce un'altra esclusiva nintendo switch stiamo parlando di kirby e la terra perduta avventura in 3d dell'adorabile pallina rosa di casa nintendo che per la prima volta è protagonista di un platform 3d il gioco appunto sarà un'esclusiva switch sempre 25 marzo ghostwire tokyo nuovo action adventure di bethesda in sviluppo presso tango games work software house fondata da shinji mikami padre di silent hill il protagonista del gioco akito è un avventuriero posseduto dallo spirito di un cacciatore di demoni che dopo essere sopravvissuto alla trasformazione degli abitanti di tokyo in un esercito di creature paranormali deve attingere le abilità del demone per fronteggiare gli spiriti che infestano la città il gioco uscirà come esclusiva temporale su playstation 5 passiamo al 29 marzo dove esce ikai horror psicologico con visuale in prima persona e ambientato nel giappone feudale la protagonista è naoko giovane sacerdotessa che si ritrova a dover contrastare un'orda di demoni tutti ispirati al folklore giapponese realizzando dei sigilli sacri il gioco sarà disponibile per pc ps4 xbox one switch e console di nuova generazione lo stesso giorno esce crusader king 3 la versione ps5 e xbox serie x e serie s del gioco strategico che porta i giocatori in un mondo fantasy con un solo obiettivo diventare re il gioco è già disponibile sul pc e nell'abbonamento del game pass 30 marzo abbiamo death stranding director scat riedizione di death stranding per ps5 con una trama ampliata nuove aree nuove missioni e molteplici aggiunte sul fronte dei veicoli delle attrezzature e delle armi a disposizione del protagonista e anche con una nuova modalità online il 31 abbiamo coromon avventura grafica ispirata ai pokemon il titolo è sviluppato da dragsoft è prodotto da freedom games e sarà disponibile su pc switch e sistemi mobile android e ios ultimo gioco del mese ma non per importanza abbiamo word west primo progetto dello studio neonato wolf eye studios il gioco è uno shooter isometrico che fonde sapientemente le meccaniche da twin stick shooter con quelle gdr il titolo è previsto per pc ps4 xbox e sarà disponibile sin dal day one nell'abbonamento del game pass signori questi erano i giochi di marzo 2022 come detto già all'inizio come ho detto anche all'interno del video sono pochi giochi che realmente mi possono interessare come ho detto c'è siberia ghostwire tokyo che purtroppo però non posso giocare perché la mia playstation 5 è chissà dove nel mondo e io sto semplicemente aspettando che mi chiami il negozio per dirmi sì ciao senti abbiamo la tua playstation che fai vieni tra ritiri arrivo quindi sono soltanto aspettando quello poi magari lo recupereremo più avanti anche i cai è un gioco che sembra molto interessante il gioco di annapurna interactive a memoir blue sembra anche molto interessante sembra una di quelle storie che ti distruggono emotivamente ti deprimono e quando le finisci vai ad abbracciare tutta la tua famiglia e gli chiedi scusa per tutti i comportamenti che hai avuto anche se per caso hai detto no non voglio andare a prendere l'acqua sotto ma sarà veramente bello stranger of paradise final fantasy origin come ho detto sono un po di dubbante ma aspetterò fino all'ultimo eventualmente per comprarlo e poi c'è siberia che per me è il best buy di marzo ovviamente poi ci sono anche altri giochi come gran turismo 7 che è un acquisto obbligatorio per tutti i fan della serie e soprattutto dei racing game io purtroppo non sono uno di quelli perché come ho già detto anche nella recensione di forza horizon l'unico gioco che riesco a giocare di macchine è forza horizon purtroppo tutti quelli simulativi non mi piacciono anche perché sono veramente veramente scarso e quindi non penso lo lo prenderò in considerazione né ora né in futuro questi erano comunque i giochi queste erano un po le considerazioni anche sulle uscite di marzo fatemi sapere nei commenti quali giochi vi interessano di più quali andate a comprare quali vorreste comprare ma non comprerete la solita domanda un po a cazzo di cane che faccio alla fine signori io vi ringrazio e vi invito a lasciare un mi piace del video vi è piaciuto di condividerlo con gli amici così vi fate sapere cosa esce nel prossimo mese iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto passate in descrizione dove ci sono tutti i link ai miei social instagram tiktok c'è il nostro discord e c'è anche il link per l'altro sito dove mi trovate in live tutte le sere dalle 9 a mezzanotte vi ricordo che questo venerdì non usciranno video perché saremo in maratona proprio su quel sito con elder ring ci sarà la 12 ore di elder ring quindi passate così mi vedrete bestemmiare in tutte le lingue del mondo per oggi è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video ginkai masè ciao 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 ciao